Prende velocità il mezzo meccanico, arretrato runi d'oro, alla chiusura della macchina Rebel Wise S è la più veloce e scende davanti a River Jet, in terza posizione si sistema Rugrunner, si vanno a delineare le posizioni, fila indiana con Rebel Wise che percorre i primi 200 in 13.8, passaggio davanti alle tribune, Rebel Wise, River Jet, Rugrunner, poi Ronnie Breed che precede Rally Regal e chiude Runi d'oro, quarto in 30.5, 17 scarsi la seconda frazione Grado a piacimento la figlia di Classic Photo che completa a 600 piuttosto lenti in 48, 17.2 la curva, è un quarto dopo i 200 iniziali, in 34, paga 1,67 Euro Rebel Wise AS, giro di piste in 1.5, Rebel Wise, River Jet, Rugrunner, Ronnie Breed che precede Rally Regal e Runi d'oro, primo chilometro percorso in 1.26, Rebel Wise seguito da vicino da River Jet, passaggio davanti alle tribune, un leggero allungo della leader che percorre l'ultima frazione in 16.3, dalle retrovie muove Runi d'oro, Rebel Wise a 700 dalla conclusione, precede River Jet e Rugrunner, 15.5 la curva, si comincia a fare sul serio, Rebel Wise, River Jet la segue da vicino, poi Rug, miglio in 2.7, Rebel Wise allunga decisamente, River Jet ha respinto Rugrunner, se ne va Rebel Wise, Rebel Wise a S, entre per il secondo, bene Rugrunner, nonostante una meccanica non proprio precisa, precede, River Jet, media di 1.17.4 sul doppio chilometro, dopo una prima fase piuttosto lenta, la figlia di Classic Photo Immersi Hall chiude con un giro finale addirittura in 58.7. veramente un ottimo prospetto questa portacolori di Aniello Daniello, il training di Catello Panico, Insalchi, preciso come al solito, Romeo Gallucci, 1.67 euro la fuori del vincente, Raggement è stata trovata a implementedo il tanzo, principale di Panico,